Grazie come sempre agli amici di Monferrato Web TV, questa sera siamo a Camagna e finalmente riusciamo a mostrarci in coppia, lui è il mio fedele compagno di giochi musicali, Marco Ruperto DJ, 44 anni di esperienza, i tuoi 25 anni di età per gamba, ci prendiamo in giro perché fondamentalmente noi passiamo talmente tanto tempo assieme, ormai litighiamo come se fossimo marito e moglie a volte, soprattutto d'estate che abbiamo tantissime date una dopo l'altra e ringrazio anche in questo caso Enrico Valecchi che ormai fa parte della squadra perché durante i periodi del Covid abbiamo avuto anche il piacere di conoscerci, di creare una sinergia con Monferrato Web TV e quindi ti ringrazio Enrico anche se sei dall'altra parte della telecamera come al solito ma prima o poi te la faccio io in quadratura così almeno arriviamo quasi a pari, questa sera presentiamo un format un po' diverso, volevamo fare una cosa che aiutasse a divertirsi tutte le età, sto parlando non so in che lingua perché a volte mi vengono fuori, sono un po' dislessico oggi comunque va bene, comunque volevamo far divertire un po' tutte le generazioni e quindi partiremo da cosa, lo facciamo da indietro? Ma sì, faremo un po' di roba molto facile, tranquilla, italiana, vediamo di muovere un po' i sederini accucciati sulla sedia e poi da lì partiamo, chissà dove si porterà il nostro vocalist, io lo seguo. Quindi mi raccomando se volete seguirci ci fa piacere, noi vi aspettiamo qua a Camagna proprio questa sera se lo pubblicho adesso quindi mi fa piacere e mettete un bel like sempre sulla pagina di Montiorato Web TV, ciao!